Che venissi raggiunti con due calci di rigore, con un Perugia che obiettivamente non è che abbia fatto sfraccello in avanti, ma lei è soddisfatto della sua squadra oggi? No, abbiamo fatto probabilmente una delle più brutte partite dell'anno, soprattutto il primo tempo non abbiamo praticamente giocato, ha fatto molto meglio il Trapani, Noi abbiamo fatto meglio il secondo tempo, i rigori fanno parte del calcio, anche quelli sono gol, quindi se sono stati fatti è perché lì ci siamo arrivati e qualcuno ha commesso qualche errore, quindi li possiamo annoverare tra i gol, i rigori. Il Trapani ha fatto una buona partita, nel senso che il mister Castori ha trasmesso subito quella che è la sua identità, una squadra molto organizzata, che si difendeva molto bene e che ripartiva. Noi abbiamo avuto poca lucidità, soprattutto nel primo tempo, nel giocare il pallone più velocemente, abbiamo abbassato un po' troppi ritmi e abbiamo fatto poco dal punto di vista della costruzione del gioco, quindi sotto il profilo del gioco non sono assolutamente contento, sono contento per il punto perché comunque è sempre importante quando non puoi vincere anche pareggiare. Mi consento un'altra domanda, di ordine tattico, quando Falcinelli ha cambiato leggermente il sistema di gioco dal 4-3-2-1 al 4-2-3-1, sembrerebbe pochissima la differenza, probabilmente la differenza l'ha fatta l'uomo, il giocatore Falcinelli che ha rotto un po' gli equilibri in vostro favore. Il gioco è un giocatore importante, ha avuto delle difficoltà fino a questo momento, ma noi confidiamo in lui, sappiamo che può e deve tornare a darci una grossa mano come ha fatto oggi, sono contento per lui che ha fatto gol, un grande gesto da parte di Iemmello che gli ho lasciato, in queste cose si vede il gruppo, l'amicizia, quindi sono cose importanti. Poi lui è entrato bene, ha fatto bene al di là del gol, però quello che ha cambiato un pochino è l'assetto tattico, perché con quel tipo di sistema abbiamo aperto di più il gioco, perché continuavamo a giocare centralmente, ma il Carpi voleva proprio quello, cioè giocate centrali e ripartenze. Quindi, scusate il Trapani, no perché leggo sempre Castori ai Carpi e mi confondo sempre, scusatemi. E quindi con questa sessione di gioco eravamo un po' obbligati a andare un po' più per via esterna. Nicola Rinaudo. Mister, buonasera e ben trovato. Per quanto riguarda l'analisi complessiva della partita, quello che forse è stato l'unico, la situazione, al di là delle sue parole dette poc'anzi, è stato buon aiuto che in certi momenti su quella fascia sinistra è riuscito a fare reparto da solo. Poi per il resto avete sofferto l'aggressività del Trapani, avete sofferto questa voglia di fare degli uomini di Castori, che come lei ha detto, il Trapani ormai ha l'impronta proprio di Castori, anche se lui è solo qui da una settimana, preoccupato in proiezione futura per la sua squadra sulla qualità della partita interpretata così? No, nel senso che non è che ti puoi aspettare che fai 40 partite come magari l'ultima che abbiamo fatto in casa. A volte capita una ragionata storta, sei poco lucido, non riesci a giocare o comunque hai un avversario davanti che ti mette in difficoltà. Quindi questo può sicuramente succedere, noi siamo qui quotidianamente per lavorare e per migliorarci. Certo è che abbiamo questa tendenza a rilassarci un pochino dopo i grandi risultati. Su questa cosa dobbiamo lavorarci. Il Trapani è una squadra che in questo momento con il mister Castori ha aumentato il livello di aggressività, ma non tanto nell'andare a prendere le squadre in avanti perché non lo fanno, nel senso che ti aspettano molto. Poi su queste palle lunghe sugli attaccanti sono molto bravi a venire molto aggressivi sulle seconde palle. Quindi queste emettono molto in difficoltà le squadre, soprattutto quelle che giocano un pochino perché ogni volta che cerchi di portare la palla in avanti poi sei costretto a correre indietro e quindi spendi tante energie. Però insomma ognuno ha il suo stile di gioco rispettabilissimo e il mister Castori ha ottenuto grandissimi risultati e quindi ha il suo perché. Giuseppe Cassisa. Buonasera mister, qualche problema quindi in attacco l'avete avuto è abbastanza ovvio a giudicare da come è andata la partita, anche se poi nel primo tempo un gol veramente clamoroso se l'è mangiato buoni aiuti quando ha lisciato quel pallone proprio tutto solo davanti il portiere. Le volevo dire, sinceramente, questo secondo rigore che è stato concesso dal Trapani, come l'ha visto? Questo contatto con il del pallone sulla parte alta della spalla di Fornasier a distanza ravvicinata da Iemmello, cosa ne pensa sinceramente? Guardate, sono sincero, io non l'ho rivisto per niente, non ho avuto modo di vederlo perché è stata un'azione veloce e non ho avuto modo di rivederlo, quindi non posso commentarlo. Non so che dirvi. Va bene mister, ci fermiamo qui, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.